Bene amici, vediamo assieme le sei novità in tema di reddito di cittadinanza per aprile e maggio di cui una, anzi forse due, cambiano anche gli importi delle ricariche. Io sono Mr. Lul, sigla, ma mi raccomando un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! La prima novità riguarda ovviamente e certamente il bonus 2400 euro di cui è stata confermata dall'Inps la compatibilità ad integrazione proprio con il reddito di cittadinanza. Questo vuol dire, attenzione, che chi di voi dovesse possedere tutti i requisiti per rientrare in una delle categorie di lavoratori beneficiari del bonus, stagionali, intermittenti, spettacolo, eccetera, eccetera, si vedrà integrare, aumentare la propria ricarica fino a concorrenza di importo, cioè fino a massimo 2400 euro. La seconda novità in realtà è più una conferma, ma tra di voi tanti sono nuovi beneficiari e altrettanti sono stati rimbalzati malamente da poste al momento del ritiro della carta perché non avevano ricevuto l'SMS Inps. Poste però non può mandarvi indietro, vi devono comunque dare la carta, anche senza SMS, basta che abbiate i documenti di riconoscimento. E non lo dico io, lo dice l'Inps sul sito. Quindi tornate allo sportello con le FAQ e pretendete la vostra consegna, la vostra carta. Poi ho segnalato diverse volte al nostro insider il blocco, il brutto pasticcio del blocco, di tante pratiche, sia nuove domande che rinnovi che aggiornamenti ISEE in ritardo, che sono ormai bloccate da febbraio. L'unica cosa però che ho ottenuto è un tristissimo e laconico ci stiamo lavorando. Vi ricordo che normalmente l'esito della pratica dell'istanza deve arrivare la metà del mese successivo alla presentazione proprio della domanda o dell'aggiornamento. E ancora, aumento reddito di cittadinanza. Io sono solennemente dispiaciuto perché c'è evidentemente qualcuno che millanta continuamente di aumenti, aumenti, aumenti. Guardate che non esistono per ora modifiche normative che prevedono un aumento o un cambio di regole nelle modalità di calcolo del sussidio di RDC. Gli unici modi, se si hanno ovviamente i requisiti, per vedersi aumentare la ricarica sono ad esempio fare l'ISEE corrente oppure ad esempio registrare il contratto di affitto e metterlo poi nell'ISEE così da ricevere la famosa quota B. L'unica vera grande novità normativa ufficiale in tema di reddito è la sospensione o congelamento in senso positivo del sussidio in caso di assunzione con contratto a termine fino a sei mesi. Una decisione presa con il decreto sostegni, attendiamo però novità news dall'Inps per l'operatività effettiva. Chiudo dicendo che in tema di politica attiva finalmente stanno partendo e partiranno sempre in più regioni progetti per l'inserimento e il reinserimento lavorativo proprio dei percettori di RDC. Apripista è l'Abruzzo con il progetto I talenti del reddito di cittadinanza che mira a creare esperti in import-export. Informatevi bene con i vostri navigator o centri per l'impiego per non perdere future opportunità di questo tipo. E detto questo, io come al solito vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, un bel like per sostenere il video e il canale, iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno appunto dei prossimi aggiornamenti. Un saluto a tutti da Mr. Lul.